attenzione gente che marco antorelli va a municipio il giorno dopo è però se continua a votare bene così però c'ho l'entusiasmo di daniele proietti di roberta del giorgio che sono venuti con me a a dire quello che pensiamo al parroco e al big parro occhio perché stiamo pure noi qua adesso se saremo 500 700 mille allora se cominciano a fare la palestra da giorgio franceschi e ricintino per cagnolino a villa panfini insomma sembrano quelle cose che sono mancate in questi anni poi adesso col mio staff perché io sembro un po così ma io sono stato e sto a fare una campagna elettorale quasi da comune che è la finestra mia un applauso alle donne di Donnolini un applauso alle donne di Donnolini un applauso alle donne di Donnolini io sono candidato qui sono un ex del PD e ho scelto di venire il tuo schienamento per metterci la faccia io abito lì qua di metter lì quindi ti metto la faccia con tutti loro che mi conoscono sto in campo principalmente per la scuola che c'hai qui davanti andiamo a vedere adesso ci passiamo Oh, c'è un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.